Già nel 2001 il Majorana Fascitelli di Serni aveva proposto un incontro con Mogol. L'autore, noto per il suo sodalizio con grandi artisti del calibro di Lucio Battisti e Mango, ma non solo, lasciò emozioni forti nell'animo degli studenti di allora, insieme a spunti di riflessione. Il copione non è cambiato, semmai è migliorato. Invitato a partecipare al progetto Letture Effervescenti, curato dai docenti Francesca Penta e Giovanni Petta, Mogol ci ha messo pochi istanti a entrare nel cuore dei tantissimi studenti che hanno gremito l'auditorium di Isernia. I ragazzi, prendendo spunto dal suo libro Il mestiere di vivere la vita, lo hanno sommerso di domande mai banali e lui non ha mai deluso le aspettative, lanciando messaggi sempre profondi di grande speranza e fiducia nel futuro. Il talento ce l'hanno tutti, ha detto in uno dei suoi interventi, ma va coltivato. Noi tutti nasciamo con il talento latente, non è che c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, bisogna coltivarlo. In che modo? Studiando, studiando con costanza e con grande passione e non mollate mai. E fiducia? Perché insomma in questa società che sembra che a volte premia chi merita meno? No, non importa, non importa quello che succede in questa società, voi pensate voi stessi a riuscire ad essere degni del senso della vita. A margine dell'incontro si è parlato anche dei nuovi cantanti, in un certo senso spinti dai social network e dalle passerelle in tv. Non è che debba io fare una valutazione, penso che la faccia già il pubblico. Oggi canzoni di grande successo sono meno di quelle che di una volta, no? Una volta c'erano 15 grandi artisti e questo non è dovuto alle nuove generazioni che non sono brave o preparate. Il problema è un problema di promozione. Purtroppo spesso la promozione fa i dischi, ecco il problema. Ancora una volta Mogolle è riuscito a stimolare i ragazzi, trasmettendo loro grandissime emozioni, ma soprattutto grande fiducia nell'affrontare il difficile mestiere di vivere la vita. Sentirlo parlare di temi così importanti quali la musica, la vita, abbiamo parlato anche di droghe, è sicuramente qualcosa di realmente molto molto importante per la mia formazione, perché sentir parlare Mogolle non è sentir parlare uno scrittore qualunque, sentire parlare Mogolle è sentir parlare qualcuno che ha realmente fatto la storia della musica italiana. Quindi per me è un'esperienza altamente formativa, ma soprattutto profonda, che mi ha colpito realmente.